e vi do il benvenuto a questa importantissima maratona online per la scienza la prevenzione mi è venuta questa idea di lanciare questi questo questi messaggi perché come vedete da questa fotografia noi ci stavamo un po scordando di quanto sia importante restare uniti e guardate la potenza di questa fotografia che unisce proprio quello che da sempre siamo stati abituati a fare nella nostra vita unire le forze e mai come come oggi dobbiamo pensare che dobbiamo unire le forze per la vera prevenzione perché abbiamo visto cosa succede a chi ha le difese immunitarie basse ma stiamo pagando anche il prezzo di tante di tanti errori della nostra umanità come quelle dell'inquinamento vi prego di silenziare tutti i microfoni e partiamo partiamo presentando un congresso con io dico tra i più grandi professionisti che oggi abbiamo in italia con esperienza clinica perché poi esperienza sul campo di convegni conferenze seminari quindi un'esperienza di studio di ricerca certosina penso a quanto insomma anche mauro approfondisca fino in fondo i concetti legati alla nutraceutica alla fitoterapia e all'importanza e al ruolo di ogni nutriente quindi io penso che la sua lezione sarà una lezione magistrale come sempre lo ringrazio fin da ora come poi professor biava che meriterebbe per le sue scoperte il premio nobel lo dico proprio senza nessun tipo di dico assolutamente è una delle cose più interessanti che possiamo fare riprogrammare le nostre cellule ernesto burgio è inutile presentarlo si farà la sua lezione sulla sul covite 19 per giorgio spaggiari medicina e biofisica e quindi a braccetto la biochimica e la biofisica pensate quando si parla di medicina integrata di non guardare le cose dal buco della serratura ma aprire le porte i portoni cominciare a vedere le cose 360 gradi perché se no ognuno coltiva il suo orticello e paghiamo i prezzi francesco balducci uno dei più grandi esperti medicina anti aging che abbiamo in italia grande una grande professionalità ma soprattutto poi massimo spattini sapete quanto sport alimentazione medicina anti aging accademia per tanti anni elisabetta verdari in bernardini una grandissima esperta e professionista e preparatissima di life style medicine e medicina funzionale quindi presenteremo anche i loro libri che hanno scritto bartolomeo allegrini medicina integrata all'ennesima potenza quindi partiamo da questo concetto che voglio creare cultura e il 22 non mancate a questo appuntamento perché si sente sempre più parlare di danni da campi elettromagnetici il 22 avremo fiorenzo marinelli che proprio ci farà farà chiarezza sul 5g sui danni eccetera i danni c'è niente da fare ormai qui ci sono oltre 300 pubblicazioni citazioni scientifiche che parlano di un ruolo comunque del sul sistema immunitario dobbiamo parlarne dobbiamo fare chiarezza quindi vi aspetto partiamo dal fatto che l'informazione prevenzione che l'epigenetica sta soprattutto che noi siamo tutti questi fattori è inutile negarlo purtroppo questi fattori sono cambiati rispetto a 100 200 300 anni fa quando uno dice devi respirare ara pura ara pulita adesso ci hanno rinchiuso in casa pensate dove l'inquinamento dalle 3 4 5 volte rispetto all'esterno e per fortuna che non so che all'esterno no le cose sono cambiate perché non c'è traffico però l'inquinamento c'è sempre quindi dovremmo fare i conti anche col cibo che mangiato ma che mangiamo non è cambiato il cibo rispetto a due mesi fa e sappiamo quanto è contaminato come l'acqua che contaminata e ci hanno chiusi in casa non possiamo neanche fare più sport insomma ci dobbiamo adattare la postura siamo sempre seduti pensate alla nostra postura l'ambiente in cui viviamo si salvi chi più i campi elettromagnetici ve l'ho detto prima dobbiamo fare chiarezza con elettromagnetico fa danno le radiazioni ci stiamo dimenticando dell'importanza della luce del solo come è possibile che chi ci comanda ci governa non non prende a cuore il ruolo della luce del sole nella nostra vita come la psico neuro endocrinologia è chiaro che siamo tutti stressati pensate quante problemi avremo tra tra un po oltre ai problemi socio economici sanitari e poi nessuno parla di ossigeno anzi pochissimi parla di ossigeno lo vedremo dopo dalla lezione di mauro ma l'ossigeno è la nostra vita eppure non ne parla nessuno come mai ne parla nessuno ne parlano veramente pochi la carenza di ossigeno penso che sia la prima causa dell'infiammazione silente probabilmente anche congenita come ci dimostra e come ci ha sempre insegnato la medicina mitocondriale la medicina funzionale allora rafforzare il sistema immunitario oggi con l'evidenza scientifica è la priorità per tutto una priorità fondamentale noi parliamo sempre di indicatori epigenetici per piacere silenziate i microfoni se potete e tutte queste interferenti come l'interferenza dei campi elettromagnetici il sistema antiossidante le sfide ambientali gli indicatori di resistenza gli acidi grassi essenziali i minerali le vitamine la dieta quindi quanto è importante riuscire a sapere anche le carenze nutrizionali legata agli aminoacidi acidi grassi essenziali microbiota se ne parla sempre di più ma dobbiamo partire da un fatto che noi se mettiamo dico sempre un topolino dentro una campana di vetro questo topolino dopo un po muore a voglia di acidi grassi essenziali di vitamine di minerali di tutto quello che vogliamo perché muore perché gli manca l'ossigeno gli manca l'aria quindi vuol dire che la carenza di ossigeno è prioritaria per tutto senza quella non si muove nulla i mitocondri non funzionano il nostro motore non va quindi mettiamo prima a posto la capturazione perché in una macchina se non mettiamo a posto il motore e continuiamo a far benissimo la macchina sta ferma per piacere silenziate i microfoni quindi una delle cose importanti è prendere consapevolezza dal fatto che tutto quello che noi mangiamo e respiriamo va al concetto a produrre energia a livello ATP mitocondriale lo sappiamo ma cosa mangiamo cosa respiriamo le carenze nutrizionali e la carenza di ossigeno come priorità depaupera la nostra produzione di energia a livello cellulare lo vedremo poi con mauro e visto che noi siamo 100 mila miliardi di cellule i problemi sono sempre nascono sempre di più e creano infiammazione cosa dovremmo fare scusate devo silenziare i microfoni perché eccoci qua quindi siamo 100 mila miliardi di cellule tutta l'energia viene prodotta a livello mitocondriale un danno mitocondriale soprattutto se anche congenito può creare un'infiammazione silente dalla nascita e quindi creare patologia lo sappiamo benissimo quanto sia importante e proprio ne parlerà a mauro il premio nobel del 2019 dati a questi grandi scienziati tra cui semenza che hanno riscoperto il ruolo della modulazione di ossigeno on demand proprio per la fisiologia la fisiopatologia ed ecco il premio nobel 2019 non 100 anni fa 200 anni fa però si parte all'incontrario oggi si fa l'incontrario delle scoperte che sono che sono oggi presentate e sono pubblicati lo stesso sergio stagnaro mi piace citarlo perché lo considero uno dei più grandi clinici che abbiamo ancora viventi in italia 89 anni e lui dice fino a quando non riprendere il discorso non cadrà su mitocondri sulla loro importanza fisiologia e patologia sulla terapia mitocondriale con efficaci istangioprotettori e nel cardiovascolare il diabete e le malattie comunque neurodegenerative i tumori continuano ad essere epidemie in aumento il problema è che ora questa epidemia in aumento parte dai bambini ancora di più soprattutto bambini nei primi anni di vita come ci insegna anche il grande Ernesto Burgio l'epigenetica e quindi sempre più bambini probabilmente come sapete nascono con problemi di salute legati a una programmazione epigenetica sbagliata quindi la disfunzione mitocondriale la fondazione medicina mitocondriale l'eredità delle malattie la linea materna perché leva mitocondriale quindi i mitocondri il ruolo della disfunzione mitocondriale nella fertilità tutte cose che probabilmente si stiamo dimenticando come quello di ricaricare le nostre batterie siamo abituati a ricaricare le batterie dei nostri cellulari anzi andiamo in panico e poi oggi il professor Spaggiari ci dirà una cosa molto interessante sul caricabatterie dei cellulari perché guardate lui ha fatto una scoperta che sapevamo ma probabilmente il caricabatterie emette un campo magnetico legato al cellulare molto forte quindi state attenti comunque il professor Spaggiari ne parlerà oggi ecco che l'ossigeno quindi diventa un ruolo fondamentale contrastare la carenza di ossigeno e l'infiammazione è fondamentale per la nostra vita come mantenere un livello di ossigeno per le nostre cellule e Gitton ce lo insegna ed ecco ancora di più che nel 2001 il time uscì con il DNA è il tuo destino esattamente perché la scoperta e la riscoperta sapevamo che tutto quello che facevamo condizionare la nostra vita è un po' come poco fa pochi due anni fa hanno tirato fuori l'organo abbiamo la matrice a questa cellulare che comunque nella medicina integrata se ne parla da 25-30 anni abbiamo hanno scoperto l'organo come pochissimi parlano di endotelio di infiammazione di danno endoteliale partendo sempre dai mitocondi quindi l'epigenetica lo sapete descrive la riprogrammazione fisiologica delle nostre cellule e soprattutto noi dobbiamo tutelare e proteggere la rimetilazione a livello della cromatina e poi le modificazioni istorie ecco che allora l'ambiente, le stress e l'eredità giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita e senza dimenticare che probabilmente ci stiamo un po' allontanando da quello che è la vera medicina che è la semiotica ognuno nasce, può nascere con una disfunzione mitocondriale e con una costituzione che probabilmente viene poco presa in considerazione allora quando noi diciamo quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento tutto quello che noi facciamo è condizionato da un ambiente ormai molto pericoloso e questi sono i risultati 467 mila morti in Europa per inquinamento questa è una fotografia che ho voluto mettere molto grave, molto preoccupante come vedete questa è la realtà possiamo continuare ad andare avanti così fare finta di nulla pensate come può nascere un bambino sano in un ambiente del genere basta pensare comunque a Brescia basta pensare a Bergamo basta pensare a Milano basta pensare alle città più inquinate del mondo com'è possibile che l'umanità possa andare avanti così? allora noi ereditiamo la terra dai nostri antenati ma la prendiamo in prestito dai nostri figli cosa vogliamo fare insieme? possiamo unire le forze? probabilmente sì allora compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato questo è il risultato e poi la ciliegina sulla torta siamo abituati a far finta di nulla pensando che i campi elettromagnetici siano come caramelle non è così soprattutto nei bambini soprattutto nelle donne in gravidanza questi sono i risultati dei danni che può creare alle cellule ma pensate se la radiazione arriva in un cervello a questo livello pensate i danni che può fare a livello del DNA sappiamo già che inverte il potenziale di membrana sappiamo che se fa gli studi l'industria dicono che non fa male se fa gli studi però indipendenti dicono che fa male che si mettono d'accordo allora il wifi siamo sempre collegati io vi consiglio di spengere wifi quando andate a dormire mettete il cellulare in un'altra stanza e se lo collegate e lo volete ricaricare mettetelo fuori dalla stanza perché comunque anche spento la batteria radia tenetelo almeno a 3 metri 2 metri, 3 metri di distanza dal vostro corpo quando dormite perché questo sappiamo già che può diventare un problema il problema è che le radiazioni i danni a livello cellulare li vedono tra 10-20 anni non li vedono domani quindi magari dicono no ma cosa vuoi che sia beh paghiamo le conseguenze sempre come quando tutti fumavano nei locali o fumavano il fumo passivo e quanto si è voluto per creare una legge ad hoc per vietare il fumo questo succederà con i campi elettromagnetici ma quando avremo pagato un prezzo altissimo guardate è veramente un grosso problema perché le concause sono sempre uno più uno che fa due quindi questi creano veramente problemi a livello cerebrale ma a livello delle nostre cellule la stanchezza cronica la fibomialgia tutte le infiammazioni correlate perché le patologie iniziano a livello cellulare dove vivono le nostre cellule la matrice extracellulare fondamentale e quindi dal glicocalice alla corretta ossigenazione allora noi dobbiamo produrre energia a livello cellulare grazie all'apporto di ossigeno e idrogeno quindi stile di vita corretto dobbiamo controllare l'ossigenazione ci sono varie terapie tra cui l'ozono come abbiamo visto già in vari ospedali sta funzionando quindi la corretta ossigenazione noi da sempre proponiamo il deutrosulfazime che è in grado di liberare ossigeno e idrogeno allo stato nascente gli studi uno dei pochissimi nutraceutici con ormai 13 pubblicazioni su PAMED che ha dimostrato che è in grado di liberare ossigeno e idrogeno allo stato nascente e di lavorare sul DNA mitocondriale quindi sulla espressione della SOD queste sono le varie pubblicazioni che trovate su PAMED allora cosa possiamo fare? questo è uno studio che poi ne parlerà anche Mauro c'è un libro importante la modulazione fisiologica di ossigeno on demand è l'ultima sfida sulla nutraceutica che vi consiglio c'è anche un ebook online edito da Edra e noi possiamo assolutamente fare prevenzione se creiamo un report epigenetico che ci permetta di capire quali sono le interferenze che possono condizionare la nostra vita voi già conoscete vari test epigenetici è uno dei più importanti marcatori un biomarker è sicuramente il capello utilizzato per valutare se una persona fa uso di sostanze stupefacenti viene utilizzato per mappare le persone che lavorano in ambienti ostili con sostanze chimiche viene utilizzato quindi per valutare se le persone sono intossicate a metalli pesanti il bulbo del capello è ancora più prezioso se lo siamo in grado di testarlo subito perché se lo mandiamo in giro per il mondo questo bulbo si ossida e quindi l'ossidazione può creare un problema e quindi cambiare poi i parametri scusate ho dovuto silenziare allora viene utilizzato dalla NASA guardate la NASA utilizza i capelli per valutare l'impatto ambientale e la salute degli astronauti viene utilizzato per mappare le persone sui disturbi psichiatrici addirittura insomma oggi è riconosciuto a livello internazionale come biomarker affidabile noi preleviamo quattro bulbi del capello dietro la zona occipitale la mettiamo in uno scanner sappiamo che contiene tutte le informazioni è un archivio di quello che succede al nostro organismo lo mettiamo su uno scanner viene letto in 10 secondi viene generato uno spettro dall'ultravioletto all'infrarosso e quando si appoggia il capello il bulbo va in risonanza con le frequenze il S-drive va in risonanza con le frequenze del bulbo del capello quindi si hanno dei risultati molto affidabili perché? perché se voi utilizzate una radio e vi sintonizzate su una frequenza o c'è o non c'è quindi la frequenza è molto precisa se no ascoltate del rumore oppure un'altra cosa quindi quando abbiamo a che fare con la biofisica dobbiamo stare molto attenti perché è qualcosa di veramente importantissimo come l'elettrocardiogramma l'encefalogramma la risonanza magnetica nucleare l'ecografia cosa sono? sono tutti strumenti che funzionano dal punto di vista biofisico allora noi generiamo un report di 90 giorni pensate in soli 12 minuti e diamo dei risultati che possono essere valutati questa non è una diagnosi è un'anammesi viene messa insieme all'anammesi del professionista e si valuta pensate 36 pagine compreso gli acidi grassi essenziali i campi elettromagnetici guardate prima e dopo l'apporto di un dispositivo per la protezione con certificazione FDA il FDA ci dice che possiamo utilizzarlo per promuovere la buona salute promuovere uno stato uno stile di vita sano motivare incoraggiare sostenere il raggiuntimento degli obiettivi di salute e benessere vi voglio ricordare che il CNR di Bologna il dipartimento di biofisica ci dice chiaramente che scoprire meccanismi di funzionamento della materia vivente e analizzarli con approcci matematici fisici e biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza cliniche centri medici farmacie ormai lo utilizzano in tutto il mondo 65 paesi in tutto il mondo vi voglio lasciare con un messaggio perché voglio poi passare la parola a Mauro vi presento in anteprima questa smart car veramente aspettate che è una qualcosa di straordinario chi vuole basta che si informi ci manda un email voglio lasciarvi con questo messaggio che ottimizzare e fare veramente prevenzione oggi è indispensabile per la nostra vita diventa un modo di vivere conoscere i fattori che interferiscono con la nostra salute è fondamentale le persone non sono solo quello che noi pensiamo di cui hanno bisogno le persone dobbiamo anche capire cosa hanno bisogno e per mettere insieme i puntini mettere insieme le informazioni abbiamo bisogno anche di sapere cosa loro hanno bisogno e farlo in 12 minuti quando il paziente è davanti a noi penso che possa fare veramente una differenza e poi non dimentichiamo una cosa soprattutto in questo momento che diceva quella frase importante la vita senza amore non ha senso e poi il saggio diceva la domanda era e se non funziona raddoppia la dose perché la vita senza amore non ha senso grazie di cuore grazie a tutti